Respinte e rispedite al mittente le tre offerte vincolanti per l'acquisto di Banca Etruria e delle altre Trade Good Bank nate dalla risoluzione dello scorso 22 novembre, Carichieti, Cari Ferrara e Banca Marche. Le offerte sarebbero state infatti considerate irricevibili. Cresce dunque l'attesa per la vendita dei quattro istituti bancari e di pari passo la preoccupazione dei dipendenti ancora in attesa di certezze riguardanti il loro futuro. La preoccupazione e lo stress è questa indeterminatezza, non sapere quando finirà questa procedura e come finirà. Poi come sindacati siamo pronti ad affrontare tutte le situazioni che si presenteranno, come stiamo facendo da 15-16 anni con i fondi esuberi, con l'aggregazione di banche, con fusioni, con incorporazioni. Quindi come sindacato non ci fa paura ad affrontare il lavoro, vogliamo arrivarci presto ad affrontare questo lavoro. Siamo molto attaccati alla banca, siamo attaccati a clienti ovviamente perché senza clienti non c'è banca. Noi continuiamo a ritenere opportuno l'intervento di tutte le associazioni di categoria, degli enti locali nei confronti di Nicasto per far capire cosa ha significato per 130 anni Banca Etruria per il territorio perché qui altrimenti verranno a comandare qualcun altro. Trattamento equo ed attenzioni paritarie a quelle rivolte nei confronti delle altre banche, questa la richiesta del sindacato. Trattamenti diversi per situazioni assimilabili, questa è una cosa bizzarra, stranissima. Se il sistema fosse stato messo in sicurezza prima, come magari è successo in altri paesi europei, non saremmo arrivati a questo. Ma noi vogliamo guardare avanti, quindi noi ci aspettiamo scelerità, ci aspettiamo un lavoro fatto bene e soprattutto ci aspettiamo trasparenza da parte del Presidente Nicasto, non vogliamo più leggere queste notizie semplicemente dalla stampa. Il Fondo Interbancario, ricordo, era già disponibile a salvarci nel novembre 2015 quando venne detto che siccome poteva essere aiuto di Stato non era possibile. Noi confidiamo che tutti gli strumenti messi a disposizione di altre banche vengano messi a disposizione anche per Banca Etruria e le altre tre banche.